Salve a tutti ragazzi e bentornati qua in questo nuovo video, questa sera siamo su Among Us, ragazzi Ho visto un sacco di gameplay, un sacco di live, ma mai ci ho giocato a questo gioco, quindi questa sera Vedremo di riuscire a combinare qualche cosa, io ho paura, sinceramente, ho paura, tantissima paura Oh ecco! Malvi! Yeah! In questa navicella siamo in troppi, questa navicella è troppo stretta per tutti quanti Oh, dovrà morire Vai, vai, it's the, it's the new game Yeah, let's go, barbie, girl Ok, chi è che sta parlando qui? No, ma che, cominciamo già, madonna ragazzi, ma che? Ah no, no, scusate, l'ha aprito lì No, no, scusa, no, no, c'era una freccia di balla che non fa l'ho No, 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 e pensavo li erano lasciati verdi No, 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 sì, scusa, era una freccia della come e cavolo si chiama Come sei vero E non mi piace quel merda ragazzi, cos'è successo? Sto sbagliando le tasche, non mi riesce. Ci sono alcune tasche bastardissime. Sì, io non riesco a far andare tutto. A me non mi riesce quella lì dei cavi. Cioè non so perché, ma anche a me non mi partono mai. Tu stai bluffando. No sceltale! Ma che cazzo stai succedendo? Ma solo io sono rimasta bloccata nel corridoio. In che senso? Qualcuno ha bloccato le porte. Qualcuno ha bloccato le porte. Ah, mi vedo che stai appena corso. Eh sì, ma prima mi avevano rinchiuso in questo corridoio qui. Povera. Tutti devono finire le tasche. E a quel punto hanno vinto l'espaggio. E invece quando sei un impostore e c'è scritto comunque le tasche, cosa vuol dire? Sono finte. Ragazzi! Ti sei sgamato. Ragazzi! Aiuto! Qualcosa! Arrivo! Corri! Oh, io ho finito le tasche. Quindi? Allora, io ero in stanza. Io non ho visto assolutamente nessuno. Ve lo dico. Allora, io come passavo per andare a fare quelle tasche, che ne ho fatta una delle due di quelle che c'era l'emergenza. Nella stanza c'erano Tale e Arianna. Sì, erano insieme. Io però non... Sì, vabbè. Io non lo so, però. Non credo siano passati da sotto. O erano... O sono passati prima, hanno ammazzato Lisa. E poi sono entrati lì. Dove l'ha trovato il cadavere? Era subito... Cioè, presente la stanza dove c'erano quelle due tasche da fare per salvare la navicella? Era proprio nella stanza subito sotto. E salendo sopra c'erano Tale e Arianna. Tale e Arianna. Eravate insieme e siete venuti da sopra? Eh? No, no, io sono... Eravate insieme Tale e Ari? Ah, io no. Gente, io sono sempre stato da solo, praticamente. Io sono venuta dall'elettrica. e ho già trovato l'elettrale. Io, praticamente, ho... Io ci sono passato... Fabio, il cadavere. Io ci sono passato, praticamente, sopra Lisa per andare a fare la tasca e sono tornato indietro a segnalarlo. Fabio! Dimmi. Ma tu te? Fabio! Era abbastanza subito sotto. No, no, io ci sono passato... Io, sì, ho... Ci sono passato sopra e poi gli sono tornato indietro a segnalare. No, no, assolutamente. Sono andato a fare la tasca perché sennò si esplodeva. E nella stanza si è trovata in elettrale. Io sospetto Fabio. Non voto Fabio. Io no, io non voto proprio nessuno. Io sospetto Arianna perché non ha segno. Ma per te, scusa. O era Arianna e era Tavano. O io Arianna non l'ho neanche vista tutta sto... Sì, l'ho vista tipo, boh, che passare una volta. Ma era stato insieme, tale? Tim, sì, va... Ma no, ma perché state votando Fabio? Perché è palesemente lui il kill. Ma no. Ma dove è Arianna? Fa due Arianna. Va bene, allora. C'è ne è uno solo. Scusate. Ah, ce n'è uno solo ora? Sì, sì, se ne è uno solo. Siamo un po' di... Abbiamo praticamente finito. Eh, e quindi come si fa, scusa? E c'è da finire le tasche. Abbiamo finito. Ma chi era? Ma chi era il... Era Arianna, c'avevo ragione, ma al solito c'avevo ragione. Ma che palle. Beh. Perché si stesse morti. No, non mi abbia fatti del bastardi. Via! Adesso non mi chiedo più di nessuno. Che so sti versi? Non ti devi fidare mai di nessuno. Io che cercavo di raggiungere la leva. E l'altra leva! Ma è bella citazione, Ari. Grazie. Le foglie dell'imperatore. Sì. Yes. Bello. Aiuto. Tanto siamo noi. È vero. Facciamo. Eh, ha trovato... Ho trovato... Oh, quanto? Where? Merckx ha tirato il cassino. Portamari. Deve essere il colore verde. Ma dove? Ta ta. L'isasa. L'isasa dove? Allora, io... Ho trovato la lampe in basso. Non mi ricordo. Io salto. Non lo vedo nessuno. Io do... C'era dove c'era da fare i motori. Ere lì con me. Io do quasi di per certo. Stavo arrivando anche io. Sì, stavi arrivando infatti. Boh, però io skipperei perché non si prega. Io do di per certo che Arianna non è. Perché siamo stati un bel po' a fare le task nella stessa stanza e non mi ha ammazzato. Stranamente. Però anch'io ho incrociato tale e non mi ha ucciso. Ma questa è la strategia del tale. Tale è... Sì. Vabbè. Merda. Beh, no, via. Non abbiamo... Non abbiamo... Non abbiamo... Proverso. Comunque Crysis di colore rosa è meraviglioso. Sì, abbastanza. Molto gaio. Sì. Let's go. C'è già Far che sta portando del disagio nella sua gabbia. Perché? Boh, corre, è un pazzo. Gli devi dare una ruota. Ora gli do due pattoni. Povenino. Perché non gli compi... We're... Guardi qua, guardi qua, guardi qua. Ma dov'è che c'è l'allarme? Guardi qua, destra, giù. Vai, ci vado, ci sono io. Extra. Mi sono anch'io. Ce l'ho. Ce l'ho in questo noi. Sette. No, come sette. Cinque. Quattro. Tre. Due. Beh, noi siamo esplositi. Perché siamo stati un bel po' a fare? Ah, era il tale. Ma come detto. Perché glielo non immaginavo. Era tale. Me lo immaginavo tantissimo. Sono cattivo. Non vogliono stare con noi. No, wey, wey. Wey, wey, wey. È un'elettrica. Wey, wey. No, Mari. È un'elettrica. Ari è morto. Allora, Mari non è mai nella vita. Mari non è mai nella vita. È perché l'ho vista zompettare due ore per tutta l'astronave. Però io nella strada ho incontrato qualcuno, ma non mi ricordo chi era. Io schifo subito. A manetta. Secondo me è Lisa. Ma proprio pesantemente Lisa. Perché pesantemente me? Arianna ha tutte le volte la scusa. E di conseguenza l'ha ammazzata per prima. Io proprio sono convintissimo che sia Lisa. Solo per questo. Sì, sì. Bene, io la voto. Ma no. Assolutamente sì. Dai, Cristian. Ma no. No, Cristian, sei una delusione. Ma non votate. Siete malvaci. Avremmo già vinto. Però bisogna aspettare che muoia tutti e live. Ho fatto la tua cazzata o ti ho salvato la vita? Ma che morì un signore, vai. Ma che morì un signore. Un signore. C'è un tizio che mi sta inseguendo. Ho voglia di pane e michella. No. No, come un tizio che sta inseguendo? C'è un... Come si chiama? Aiuto. Mi sa che... Vai, qualcuno è morto. C'è una fatica a muovere sto personaggio. Mi stai ridendo. Perché mi fa ridere come va vicino a te scappi. Ma sì? Sto facendo di lasciare un tasto. No, ma per chi non me la... Totalmente. T'aveva già ammazzato 16 volte, se no. Tutto bene? Sì, non mi funziona. È noi tippo. 16 secondi, ragazzi. Lo sto facendo io. Eh, io ne ho fatto uno, ragazzi. Ovviamente ero venuto in quello lì. Bravo. No, qualcuno. Chi è che ha riportato? Ah, sì, si può ammazzare. Chi è? Ragazzi, è Lisa. È Lisa. Allora, stava in mente che c'è da O2. Io sono arrivata in O2 e c'era un cadavere. Vai, sei vinto. No, Ale. Tale non è. Era lì che faceva la tasca e ci stavo andando anch'io. Dai, Tale. Ho votato, ho votato. Armi. Lisa, votati da sola, dai. Io voterò Fabio. Dai, Lisa, però difenditi. Io voterò Fabio. È quella strada. È quella strada. È quella strada. Oh, è lì, l'avevo presa sin da subito, ragazzi. Oh, era lì che non voleva mettere l'ossigeno. L'avevo presa sin da subito. Io stavo dietro l'angolino e guardavo. Ci sono andato io, ma ha tirato un colpo. Lo sapevo. Non sapevo nemmeno fino a quel momento come fare casino nella nave. Ma hai scoperto ora. Sì. No. Quella di Cristian mi faceva troppo ridere. Come mi avvicinavo. Non aiuto, aiuto. Non è che sono scappato, avevo finito la tasca. Sì, sì, avevo finito la tasca. L'ossigeno di sopra è mio. Non lo puoi fare male. Ho visto a sì. Come? Come? Allora, raga. Aria era accanto al corpo e non l'ha riportato. E' già scappato. E' ristora il corpo, regà. E lei era ristora giaccato a me. Girdo, hai qualcosa da dare. L'hai convinto. O era FH. E non penso. E' marina. E' palesemente marina. Mi fa male che testi. No, non sono io. Io voglio dare fiducia. Poi se stima è che non lo so. No, non sono io. A parte gli scherzi, non avevo visto il catapero. C'è weirdo. Non avevo visto il catapero. 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 No, non ho. Era accanto al corpo. Ma non ero io. Non avevo visto il catapero. Mari, è colpa tua. Però ammetti di essere lì. Che eri lì. No, perché se no. No, io. Cioè, a parte non l'ho proprio visto. Comunque non lo so dove era il corpo. Io proprio non l'ho visto, giuro. In storage era. E' palesemente mari, ragazzi. E' ora? Eh? Sappi, Mari, che ti sto seguendo. Ah, ok. Bastardissimo. Ah, no. Sono arrivato lì, ho visto. Proprio lo zapp. Lo ricorrevo là da 5 minuti. Porco. Come me porco? Cominciamo già molto bene. Oh, in quanti mi state seguendo. Ah, che credo. Io lo faccio apposta. Ma la benzina è facile. Sì, devi farla due volte però. La benzina è la mia task preferita. Praticamente non devi fare niente. Esatto. Sì, devi farmi fuggiare un pozzantino. No, ragazzi. Ti è morto. Rai. Rai. Però, scusate, non ho letto la stanza. In basso, in fondo, a sinistra. L'ultima in fondo, a sinistra. Regà, non so, io ve lo giuro. Perché? Ce l'ho nemmeno. No. Non mi è chiuso, adesso non ti credo nemmeno io. No. Merckx. Ma no. No. No, lo sapevo. Madonna, ma è difficile questa. È spettato da tre fantasmi. Io. Io? Perché mi seguite? Vai. Eh, ragazzi. È il momento di fare la votazione. Ti prego, vota il video. Ti prego, via. E a questo punto, o è Fabio? No, non può essere. Fabio, Fabio, è stato lui a dire votate cosa, Marina. No, è Rihanna. Ma non ho capito da successo. Ma ha fregato Rihanna. Perché io non ho capito da successo, io stavo facendo una task. Ero con tale che facevo una task in caffetteria e poi sono andata a fare la tavola. Vuota Fabio, vai allora. In una sala di controllo. Vuota Fabio, allora, vai. Perché non siete venuti nella stanza elettrica? Io stavo facendo la task che è superaria, intanto. Perché la stanza elettrica? Se vuoi di superaria, non le puoi fare se non sistemi la cosa. Ma che cosa dici, Fabio? Non sistemi la luce, non sono da più a sistemare la luce perché nessuno lo faceva. Non mentire, non mentire, sei un bugiardo, sei. Ari, io ho votato te, ma in realtà è tale, a questo punto. Sei un bugiardissimo, sei. Non lo so, perché io ho già fatto buttare fuori, ma... Ari, io ho votato te, vota tale, perché sennò... Ari, ha già fatto bui, ma... Fidati, io ho fatto la task ora dell'elettricità. Ma che c'entra quello? Sera buio, nessuno le faceva, non puoi fare altre task, se non risolvi quella. Ari, stai votato te e sei andato a accusarlo. Non puoi farlo. Ari, non puoi fare, non puoi fare, non dirlo, no. Ragazzi, io non ho idea di chi. Cioè, io non ho idea di votare. Ari, ha già buttato, ha già buttato, ha stato fuori, Mari. Ha già buttato, cioè, ci ha fatto votare lei. Su, cioè, è abbastanza evidente. Ti assicuro di no. Di eh. Assolutamente no. Eh, vai. Tutto questo è bellissimo, comunque. Eh, lo so. Ma il minimo Arianna. Ma il minimo Ari, è proprio... Ma che è? Per me sai quali è il minimo di te. No, sbagli Ari, non lo fare, fidati. Ti avete votato? Io li ho votato. Io ho votato te Ari, ma ho sbagliato perché è tale. Ma il culo. Sta facendo tutto in questa vampina. Ma non è vero, sta dicendo una... Ari, sono tre secondi. No, vabbè. E guarda, ha votato me, guarda. No, ho votato Arianna io. Ah, già, è vero, io so quello di Oli. L'ho detto subito, avevo votato Arianna. Hai fatto un grande errore, eh. E' uno stronzo. Era Arianna. Era un'ariferta. È stata una giocata bellissima. Ma cevi troppi versi, tale. Ma non ero io. Ho capito, ma non ero nemmeno io. Era Arianna. Ma non farei morire molto. Non vale, se non so te ero io. No, non so te ero io. No, non so te ero io. No. No. No No. Grazie per la visione!